Salve a tutti! Iniziamo questa puntata davanti al mio colosso, che ho voluto personalizzare dal punto di vista dei colori proprio prima di iniziare questa registrazione. Guardate che bello che è! Posso... no, panoramico così, voglio girarlo, posso girarlo da qualche parte? No, zoom in avanti, ruota. Oh, guardate che bello che è! Multicolor! Va che bello che è! L'ho voluto fare ignorantissimo di tanti colori accesi, perché così era bello. Oh, va! Va che bello! Sembra che... sembra che gli abbiamo preso 4 o 5... da noi si ceccati di vernice, cioè secchi di vernice, boom! E gli abbiamo buttato addosso, che bello così! E' proprio quello che volevo per il mio stare. Oh! Adesso, una cosa, prima di tutto, perché io, beh, nel corso delle due puntate, mi ero dimenticato di riscattare i codici, le cose premio, che avevo... Allora, componenti, intanto qua posso... vuoto, qua posso mettere qualche cosa. Allora, intanto vediamo cosa c'è a questi componenti. Allora, rinforza corretta, 12, 12. E là! Aspetta! E là! Aspetta! E là! Aspetta! Aspetta un attimo! Allora, potenze e lanciamissili e artiglieri è veramente uguale. Proprio qua. Quindi facciamo che uno lo metto, ok? E quest'altro si può scomporre o scomponiamo. Oh! E questo cos'è? È universale. Non ce ne faccio molto. Vabbè. E poi ci vediamo. Comunque, questo a livello 6 è bloccato. Componenti. Lanciamissili e artiglieria. Abbiamo trovato niente? No! Intanto non posso neanche... vabbè, ok. Poi, lanciamissili... Ah, qua abbiamo trovato qualcosa? No! Manco per la cespia. Armi! Ah, le armi, le armi. Qua magari... Ah, aspetta che poi ce le posso mettere un'altra arma. Allora, vediamo. Quindi, non mi faccio il cannone automatico... Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Fermi tutti. Diccio, cannone automatico di potenza 4. Eh, scusa. È la potenza 4 che è nulla senza controllo. Fucile di precisione. No, neanche no. Noi dobbiamo andarci proprio ignorantazze, proprio. Noi dobbiamo... E proprio... Noi ci andiamo qua di ignoranza. E' l'unico motivo per cui ho preso... Allora, mitra dice leggera, cannone automatico... Aspetta. Aspetta. Aspetta che qua... Allora, cannone... Fermi. Allora, cannone... Colpa al minuto ne fa meno. Però... Fa più danno. Allora... In grado di abbattere la via i più nemici. Ok. Prima momento, a quanto più lungo riesce a concentrare fuoco su un bersaglio. Allora... Il compi al minuto ne dà molti meno. Caricatore, munizioni, però, ne ha di più. Eh, signori, io vado su questo, allora. Questo aumenta, tra l'altro, la precisione. Eh... Più concentra... Più ci concentra un nemico, più... Più ci concentra un nemico, più aumenta la precisione. Quindi direi che questo si fa. L'altra arma, però, mi serve qualcosa di più. Un attimo. Allora. Fucile di precisione, questo cos'è? Intragliatrice leggera. Non è il massimo della vita. Allora, facciamo, allora. Per ora ci accontentiamo della mitragliatrice leggera. Però... Però... Insomma, penso, penso, otterò prima o poi per qualcos'altro. Lo proverò, la proverò la mitragliatrice leggera. Devo capire poi un attimo come si cambia l'arma. Cosa che non so. Cosa che non so. Perché indessinare l'arma la cambiavo col triangolo. Intanto... Non ricordo quando gli hanno fatto. E' gente che parla, che fa, che dice... Ah, io, tra l'altro, io avrei dovuto riscattare delle robe, perché, di come dicevo prima, non ho riscattato il premio di... Ma questo non me lo fai fare? Scusi. Da altri gameplay ho visto che eri tu che facevi. Vabbè, ho capito. Non posso riscattarlo ora, è così? Va bene. Parla, dai, parliamo con loro. Specialista. Grazie per il tuo intervento. Si è trattato di un problema inaspettato. Te ne vai spesso in giro fuori dalle volte in quel modo. Rischi del mestiere, ma stavolta... Ah, stavolta era diverso, sì. Qualcosa sta rendendo i metamorfici più... Vabbè, Mattias... Mattias Hammer, che... Stato, storia meravigliosa di Mattias Hammer, che è passato da fare il difensore centrale del Borussia Dortmund a diventare arcanista su Anthem. Cioè, è una storia comunque particolare. Vediamo qua, io non ho seguito quello che hanno detto, scat... Non conosco l'interattoria. Io sì. Ah, Yarro conosce l'interattoria. E tagliamoci le interazioni, vai. Non sono in molto a sapere quello che sto per dirti. Mi dica allora. La mia allieva, Gianni, era lì dieci. Ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. No. Cosa? Sicuramente saprei già che Liberaglia era una delle più grandi in città di Bastia. Era antica, orgogliosa e prospera. Yeah. Ma sopra ogni cosa ospitava la più grande e importante enclave di specialisti. Oh, ok. Gli specialisti, al fianco delle sentinelle, guardiane delle mura, proteggevano Liberaglia e i suoi abitanti dal caos di questo mondo. Ok. Ma il casino non è nato... Liberaglia. Ogni fazione dimostrò il proprio valore in quanto erede del generale Tarsis e della legione dell'Aurora. Ok. Che... Ma il casino non è nato per quel discorso del cuore della furia. E che posso? Lo specialista Adams, uno dei nostri uomini migliori, guidò l'assalto mentre l'enclave si lanciava contro le forze del dominio. Eeeh... Che colosso come me, tra... Yeah, vabbè. La mia Gianni dice che l'esercito era immenso. La mia Gianni. Il dominio era guidato dal dottor Arken, un uomo che nessuno aveva mai visto prima. Il suo obiettivo era prendere la città a qualsiasi costo. Ah, bene. A qualsiasi costo. Quindi combatterono. Accerchiate. Sopraffatti il numero e potenza di fuoco, gli specialisti combatterono. Eh. Combatterono. Per un loro resistente. Eh. Eh. Ma le mura della Grande Liberalia invece no. Ah. Il dominio si riversò all'interno. Adams, insieme a molti specialisti, oppose l'ultima resistenza fuori dalle mura. Ok. E che è questo, pelato? E' un poverso, sembra che sono incinente di caldo bici. Che? 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 Ed è così, che nelle profondità della città, Gianni scoprì ciò che le sentinelli invece già sapevano. Al dominio non interessava distruggere Liberalia. Ah. Ciò che volevano era un antico manufatto dei creatori. Ah. Protetto nelle profondità della città. Il Cenotafio. Il Cenotafio. Ah. Ecco. Vabbè. E questi cofì qua? Va. Ok. A quanto pare, il dottor Harkin era convinto di aver trovato un metodo che permettesse al dominio di controllare l'inno della creazione attraverso il Cenotafio. Ah, va bene. Che arroganza. L'inno non può essere controllato. Eh beh. Il terrificante cataclisma scatenato quel giorno distrusse Liberalia, distrusse il dominio e distrusse tutto quanto. Ah. E boh come che ha detto Cenotafio? Quel cataclisma divenne il cuore della furia. Ah. Qualcuno sopravvisse per raccontare la storia di Liberalia. E quel... C'è un ologramma! C'è un ologramma! Che cos'è? Ci sono i fantasmi! I fantasmi! Vieni da me più! I fantasmi! Ghostbuster! Ti contatterò quando avrò cosa. Ghostbuster! Io sarò. Chiamate Ghostbuster! Ci sono fantasmi! Ma che cosa? Sistema delle fazioni sbloccato. Ah. Ok. Allora. Accedi al sistema delle fazioni tramite la scheda sfide. Eh. Vabbè. Ok. E resti granga. Viste al bazar in conta Prospero. Ti chiami Prospero? Va bene Prospero. Per essere Prospero mi pare anche un po' magrolino. Però va bene. Dai. Vai Prospero. Eh. Sei il nuovo specialista di cui ho sentito. Ma quanto pare. Solo se ne parlano bene. Eh. A volte ne parlano bene. Solo se ne parlano bene. Come. Ah. Già il fatto che qualcuno parli di uno specialista è straordinario. Ah ecco. Mi chiamo Prospero. Bel nome. Sommetto che sei la persona che stavo aspettando. Ma sì? E perché? Sai bene che essere specialisti non è solo questione di lavoro, ma di orgoglio. Orgoglio nell'operare bene. Orgoglio per il proprio... Assolutamente. Ultimamente non è proprio così. Vabbè. Intollerabile. Chi mai vorrebbe lanciarsi in battaglia con un aspetto... Ah è certo, ovvio. Sei uno stylist praticamente. Sei il ciacci di... Di... Sei il ciacci degli strali praticamente. La raffica di dolore. Ok. Tra l'altro Prospero... E' la mia specialità. Bene. Quando un lancele vuole farsi notare... Come una qualcosa di speciale per il suo strale. Sei il Jonathan degli strali. Più Jonathan che... Che ciacci. Più Jonathan. E' calata. La domanda è calata. La fucina non funziona nemmeno più al giorno d'oggi. Tu dici? Spero che tu riesca a cambiare la... Ma vediamo. Come posso aiutarti? Dobbiamo ripristinarla. Ma ci vuole della quintessenza. La quintessenza. E vuole avere coraggio di andare a cercarla. Se la trovi tornerò in affari. Va bene. E anche tu ti insegnerò la... Va bene. Ok. Ci sto. Proprio quello che volevo sentire. Ok. Dovrai cercare la quintessenza all'esterno del fuoco. Va bene. Portala qui. E potremo cominciare a rimettere in piedi questo posto. Va bene. Allora. Riaccende il fuoco. Lavorazioni. Finalmente per gli spediti per... Per il pericolo. Vabbè. Vabbè. Perché lavorazioni. Quintessenza. Pericolo sottoprodotto dell'inno. Ah. Ok. Eh. Accettiamo. Boh. Ok. Ho parlato con pro. Gioco libero sbloccato. Pezzi di quintessenza raccolti. Ok. Non dobbiamo tornare là. Dal nostro bel colosso. Dobbiamo tornare lì. Va va. Dai. Accendiamo il fuoco. Abbiamo a spedizione. Andiamo a cercare i suoi cosi. Va che bene. Poi tutti i colori. Tutti gli out. Molto con... Non so come definirlo. Però mi piace tantissimo. Così colorato. Tutore al gioco libero. Ah. Bene. Missione prioritaria. Gioco libero. Va bene. Quindi devo trovare io. Allora. Io ho presa. Gioco libero. E... Avviamo a spedizione. No. Eh. Ok. Vediamo un po'. Il colosso è pesantemente corazzato è più grande e potente tra gli stagli. Yeah. A così ci andiamo. Di ignoranza. Di brutale ignoranza. Mi piace. Mi piace così. Yeah. Mi piacciono un po' meno questi caricamenti. Un filino lunghi. Però dai. Ce la facciamo. Prima o poi ce la facciamo. Con calma. Con molta calma. Mmm. Come vi è andata oggi la giornata, signori? Raccontate un po'. Scrivetevi nei commenti. Insomma. Dite voi, insomma. Come vi sembra questo gioco? Caricamenti a parte. Io ci credo. Mi attimo. Io ci credo che finirà questo caricamento. Prima o poi. Sono abbastanza convinto che prima o poi questo caricamento finirà. Sì. Ci credo. Prima o poi dovrà finire. Ah, c'è la barra. Quella barra piccola in alto. Che tra l'altro voi la vedete in parte coperta dalla mia facecam. Penso che non mi lamenterete della cosa. Io presumo almeno. Non credo che lì in alto a destra copra qualcosa di particolare. Certo, mi sa che è meglio... Mi sa che è meglio che... Questi caricamenti li taglio. Forse... Forse è più indicato. Oh, ci si... Pum, bello di... È tutto pronto. Segnalerò gli elementi degni di nota che rileverò nella zona. Ok, d'accordo. Boh. Ole. Allora. Vediamo effe inneggianti. Me raffreddo un pochino. Un bagnetto. Stacqua è strana però. L'acqua è un pochino strana. Allora... Da qualche parte sti... Quintessenze... Avessi trovato, no? Ok. Il bacino. Lealtà degli specialisti. Ok. Ok, poi il facecampea. Pum. Aia. Papo. Ma qua trovo solo nemici. Allora. Posso andare via di qui? Anche perché penso che... Allora. Uuuu... Uuuui... Uuuu... 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 Senti, io... Aspetta un attimo. Palle dell'onore. Vabbè, camminiamo, va Ecco, va beh Ma quintessenza io qua continuo a non vederne, eh Salve No, io... No, tranquillità, fate... Fate tranquilli con comodo, io non voglio guardare Vabbè, vai che capa... Allora Vabbè, vai a fare in alto dretto Cosa dice qui? Prendo una roba Metaforomorfici e la chiave incastrata Vabbè, eh, amen C'era una roba Io non ho capito neanche dove mi trovo Allora... Allora... Oh... 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 Vai che m***a Perfetto Vabbè, qua... Consigliate sempre che questo starà il... Minghione Allora, questi tu... Sono tranquilli, pacifici Allora, facciamo una cosa, io voglio provare a starla Proviamo... Proviamo... La musica si va, si fa intensa Aspetta che forse... Questo però va a far... Ah... E' veramente organico di una roba E carica Vabbè... Ma non è che droppa niente Ah... Qua che tolto i puccellini Quinta e senza So se robe lì E vabbè Allora, ok Però io non è che Ne trovo molto Boh, saranno essere parti Magari qua ce n'è qualcuno Qualche quinta e se Mi sa Vedo dei funghi di fosforescenti Ma quinta e senza Io non ne vedo Nel frattempo Mi spuntano Salve Avete visto quinta e senza No Va bene Va bene Allora Questi mi sa Che sto Duri Ma Cosa Aia Io non volevo Suterrarci così Ma va bene Uno si è unito A cosa non l'ho capito Ma uno si è unito Ma come posso cambiare L'arma Questo non è Ecco qual è lo scudo Ok Ma vedi che è lo scudo Aspetta E ora Ora ci divertiamo Ti pare che no Però questi sono i brutti Questi sono I brutti Io lascerei stare Eh Io cercherei in giro Di quelle quintessenze Quintessenze Che deve fare Che quintessenze E che caccio sei Dior Aspetta Che faccio un altro Ah Non ha droppato niente Manco Manco le armi Va bene Ma posso Questo fa Questo fa Questo fa Una cosa Questo fa Un'altra Aspetta Vabbè All'altro punto E me la sono persa Vabbè Fanno Niente L'arma definitiva Me la sono bruciata Così Solo perché Non riesco a capire Come Si cambia L'arma Ma Quelli sono Dei robbi Che Se posso evitare Di disturbare È meglio Qua Raffreddato Aspetta Io Io L'ho Vado Da Un'altra Parte Ok E Trovare Queste Quintessenze Che palla Allora La La c'è Un'altra Ma Quintesse C'è un modo Di trovare Quintesse Ma la mappa Mi dice niente A riguardo Ma sembra Di no Ma neanche Di quello Mi diceva niente A riguardo Quindi A questo punto Aspetta Cascata Mi servirebbe Cambiare L'arma Comunque Devo vedere Un attimo Scusa Eh Arsenal Come No Non voglio Vedere Tutorial Non voglio Poste in arrivo Sfide Sì Vabbè Obiettivi Imprese Come si gioca Comunazioni Come si vuole Notare Comunazioni Tempeste Colosso Informazioni Vabbè Ah Questa è la mappa Aspetta Questo cos'è Talini è Il tragitto Che ho fatto io Presumo Sì Vabbè Mi servono Se senza Ciufala Io C'è una città Tutta Tutta Miela Città Io Mi sa Che Mene Vado Tutta Miela Città Città Tittà Tittà E Città Olè, è tornata, ti raffiaggiamo così, ribuoscura, ma porca, ah ok, io with the Ah, ok, ah mille, no però questi sono duri, sono duri, eh porca, va beh, è uno, va lì, poca, porca, ok, munizioni, munizioni, corazza, oddio, trovare una cosa utile, ah, aspetta, trovato, secondo, quintessenza, lui c'è te che ce n'è un'altra, fermi tutti che ce n'è un'altra, no, vaffan, mamma fa forza, oddio, queste sono quelle, quelle, quei giochi e missioni che, andiamo così, parliamo su, lacrime, Ehi, mi ha freddo, ah, perché vero, perché piove, ok, piove e mi raffreddo, torre, guarda, è sbloccato, io sto sbloccando un sacco di cose, sto girando in giro, sto facendo i miei giri, mi, mi giri, mi giri, va bene, come me, boom, 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 bella, bella, proprio, mi piace questa cosa, e un'altra, boom, ciao, ah, così, però, io continuo a non trovare, se quintessenza, aspetta che qua ci sono robe, qua, qui, tu, qua, qua trovo la quintessenza, eh, ole, trovata la quintessenza, e tu, con i minerali, oh, torna a Fortarsis, posso, come ti fa, R1, come si torna, aspetta, come, allora, abbandona, gioco libero, oh, torniamo a Fortarsis, andiamo a ridare, quel coso lì, ebbè, ci siamo fatti così, una passeggiata, ci siamo fatti una passeggiata a recuperare quintessenze, così, mi sento molto Christian Dior, a recuperare, così, quintessenze, in giro, sembra che c'è a fare un profumo, no, invece, per poter, per, per avviare la fucina, eh, così, ok, va, va bene, Iverna in cerca di Windows, catena, cosa? Medaglia, stile, gioco, saggio, va bene, punti esperienza, 50, ma proprio neanche per, eh, sì, 50, la tristezza, Rango 2, sono la tristezza di questa mission, sono saggio, sono stato saggio, eh, poi, di Fortarsis, andiamo a Fortarsis, eh, vabbè, e adesso a Fortarsis andremo a consegnare, inseguinte e senza a, a, a Prospero, a Prospero, sono di Palermo, non sono romano, però, l'idea è questa, è Prospero, ai, 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 è tipo cugino di venerdì, quello dei, dei personaggi di Robinson Crusoe, comunque, Prospero, signore Prospero, che bel nome, Prospero, vai, ai, ti avrò mai un cane mio e lo chiamerò Prospero, ho capito, più un chihuahua, lo chiamo Prospero, eh, allora, allora, signori, il proseguo, insomma, adesso, nella prossima puntata, andremo a consegnare, le, le quinte essenze, a Prospero, che ci fa, il profumo, cazzo, comunque, detto questo, molto semplicemente, saluto a tutti quanti voi, alla prossima, e, allora, allora, Grazie.